Era un po' che non facevo video questo periodo di lockdown però ho raccolto tante richieste da parte dei così degli utenti di youtube soprattutto perché mi sono spostato molto su youtube e a questo proposito volevo introdurre un concetto molto particolare con queste due piante che sono due cagatine ma possono dirci qualcosa di molto importante non solo perché inizia ma anche per chi è più avanti qualche secondo di sigla intanto voi cliccate su iscriviti al canale cliccate la campanella e ci vediamo subito Il lockdown è servito per raccogliere un mucchio di informazioni per dialogare tantissimo ho dialogato tantissimo mi sono spostato da facebook a youtube anche se youtube mi dava praticamente un contatto più veloce più immediato con gli utenti mi faccia conoscere da più utenti però mi piaccia molto di più l'utenza di youtube perché perché ho visto che si è instaurato un rapporto proprio di curiosità e chi guarda youtube poi praticamente va avanti quindi torno un po al mio concetto che io facevo questi video non per dare delle lezioni ma proprio per stimolare ed è su youtube che ho trovato appunto i risultati di questo stimolo facebook spesso è troppo veloce youtube uno il video se lo cerca se lo ricerca se lo rivede e quindi youtube passa facebook passa nel dimenticatoio youtube no comunque torniamo a noi un discorso molto interessante che volevo fare su queste due piante sono due piante boh una volta le chiamavamo scacciafiga chiamiamo le scacciafiga sono proprio per chi inizia beginner praticamente abbiamo un martello un ligustro e un pino silvestre un cucciolo di pino silvestre che mi è nato in un vaso non so come me lo son trovata a crescere l'ho trapiantato così per far divertire mia figlia ma un concetto molto importante possono insegnarsi queste piante il tipo di crescita diversa abbiamo che fare con una latifoglia e con una conifera non è un discorso questo che va a generalizzare tutte le latifoglie si comporta in un modo tutte le conifere nell'altro ma quello che volevo farvi vedere io sul tipo di crescita vedete qui che questo rametto questa pianta avevamo già vista in un video sulle potature così di base anzi magari vi metto qua sopra il beige per andare a rivedervelo avevamo visto questo questa questa pianta l'avevamo potata nel frattempo cosa è successo questo ramo è cresciuto 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 se io questo ramo non lo poto a fine così della stagione vegetativa avrà un ramo di mezzo metro prenderà diametro e vedete addirittura che sta creando tra così la foglia e il rametto un nuovo germoglietto non so se si vede dovrebbe vedersi così sul mio pollice vedete il nuovo germoglietto quindi sta creando sta allungando l'asse vegetativo originale in più sta creando degli assi vegetativi secondari questo è importante perché noi sappiamo che quando andiamo ad approcciare a una pianta con queste qualità tipo una latifoglia un olmo ad esempio noi avremo questo tipo di risultato cosa che non avremo se andiamo a lavorare ad esempio su un pino vedete le crescite di quest'anno del pino no ancora non le vedete questo è il germoglio che si sta allungando sta pian piano maturando vediamo se riesco a fare un close up o mai sfocato no va bene e una volta maturo questo germoglio diventerà magari così 5 cm 4 cm non crescerà più per quest'anno la crescita di quella pianta si è raggiunta poi si può lavorare per l'arretramento puliziai diverse diversi lavori si possono fare su questa tipologia di pianta ma l'allungamento del germoglio è finito questo cosa significa che quando andiamo a potare dovremo prevedere questo perché sono comportamenti completamente diversi io con questa pianta potrò imputare in un certo modo perché so che nello stesso anno mi creerà un allungamento magari nuove gemmeretrate se vado a fermare la crescita dall'ultime foglioline se io vado a potare qua così all'ultime due foglioline mi riparte la cacciata cosa che non succede qua se io vado a potare adesso anzi se fermo a crescita adesso io la prossima crescita ce l'avrò l'anno prossimo quindi attenzione una cosa molto importante non solo per chi parte ma anche per chi ad esempio va a infoltire una pianta e se io vado a infoltire una pianta e voglio allo stesso tempo che ne so creare un ramo un po più lungo perché magari mi mancano spazio con questo posso potrò potare magari due tre volte nell'arco della stagione vegetativa con questo no dovrò far allungare il mio rametto e poi l'anno successivo creare retramente in modo tale che mi si e crei la lunghezza e poi nel primo nella prima fase poi secondo tempo vado ad infoltire vedete anche qua quest'anno questi sono nuovi no emessi quest'anno questa è la pianta dell'anno scorso vedete come già qua non tutte le gemme reagiscono allo stesso modo no ecco anche lì bisognerà gestire niente quindi abbiamo visto come in come approcciare diversamente sulla tipologia di pianta questo importantissimo ripeto per chi inizia soprattutto perché inizia ma anche tra i miei allievi per chi deve portare avanti una coltivazione magari intensiva oppure per chi vuol fare infoltire la pianta proposito infoltimento presto no non è qua perché l'ho spostata volevo farvi vedere pianta da dietro no ci sono delle piante che dovremmo andare a fare forse la dello styling eccole la ecco fare quadra styling una e una due qua questa idea quindi vedremo come portare questo è un silvestre ci sono altre piante che andremo dovremmo andare a fare dello styling lo faremo perché adesso inizia periodo estivo e quindi è il periodo diciamo ideale per pulire per rifinire per iniziare a lavorare sull'arretramento del prossimo anno l'infoltimento sulle conifere e quant'altro attenzione ho detto conifere ma non tutte si comportano stesso modo perché il nome conifera viene non dal modo di crescita ma dalla dai coni che crea in fase di produzione no del frutto quindi meglio dire parlare di crescita predeterminata lo vedremo ancora in un prossimo video perché questo concetto va a ripercuotersi su tantissime cose che riguardano la coltivazione bonsai per ora è tutto spero che vi sia piaciuto rimanete collegati mettete like mi raccomando qua sotto scrivete i vostri commenti perché sono fondamentali anche per me per sapere dove andare a parlare quei prossimi video chissà che magari poi in un da qua più avanti adesso arrivava la stagione riesca a suddividere il canale in video per beginner video sulla coltivazione e video di styling non lo so le idee sono tante poi purtroppo sempre il tempo è quello che è e quindi già più di una volta ho tradito le vostre aspettative così non riuscendo andare a produrre il materiale che volevo però vabbè purtroppo cioè no purtroppo la la mia attività è un'altra quella di insegnare e quella deve avere per forza mi dispiace per voi la la priorità non posso non dar seguito ai miei allievi o i miei clienti per lo standing delle piante ok ragazzi a presto con un nuovo video e anzi mia figlia mi ha detto che devo riprendere a fare un video al giorno perché così fanno quelli seri vediamo ci provo studio bonsai in subria ciao grazie